Il mio rapporto con i tarocchi è strano, è nato una quarantina di anni fa, studiavo tanto i mandala, in quel periodo mi occupavo di buddismo, di filosofia orientale, studiavo i mandala e ho capito che uno dei pochi mandala occidentali era proprio quello inventato da Papius sui tarocchi. Allora da lì ho cominciato a interessarmi dei tarocchi e ha visto i miei primi disegni di tarocchi Stuart Kapla e mi ha fatto fare un mazzo che sono i Mediva Scappini Tarot che sono piuttosto importanti e ultimamente a forza di disegnare i tarocchi a leggerli. Leggo le carte, oggi per esempio qua sono a Monzambano non tanto per fare vedere alcuni disegni dei miei tarocchi ma soprattutto per leggere le carte, infatti sto leggendo le carte e questo incontro con la gente perché vedete i tarocchi sono sostanzialmente una macchina per immaginare e uno alla mia età, ormai ho 74 anni, gli piace immaginare insieme alle persone. Grazie a tutti.